bentornate bentornati a tutti amiche e amici appassionati di cinema anime serie tv di tutto quello di bello che viene trasmesso sul grande e sul piccolo schermo se i miei calcoli sono esati oggi vi devo augurare buon natale vi auguro davvero che siate felici che possiate avere tutto quello che desiderate perché si tratti di cose buone e spero di farvi un gradito omaggio trattando oggi per l'occasione non capiterà molto spesso che il natale cada di domenica oggi parleremo del cortometraggio della disney di animazione ispirato al romanzo di charles dickens il canto di natale di topolino non credo che serva riassumervi la storia il libro narra le vicende di ebenezer scrooge che essendo un miserabile avaro sfruttatore truffatore viene visitato dal fantasma del suo socio passato destinato all'inferno e a portare per ne mente catene ebbene a scrooge gli viene data la chance di redimersi solamente che dovrà ricevere la vita di tre spettri di tre fantasmi ognuno dei quali rappresenta un periodo natalizio passato presente e futuro e queste visite dovrebbero riuscire a cambiare l'animo di scrooge neanche a dirlo che può interpretare scrooge dato che è anche il suo nome originale zio paperone oggi tratteremo di 5 curiosità si tratta di un film molto breve quindi trovare 10 curiosità sarebbe stato molto difficile però queste sono molto succose e dato che è natale probabilmente lo state passando con i familiari o gli amici o le persone a voi care taglio corto e arriviamo direttamente alle curiosità prima curiosità la scena di apertura quella in cui scrooge sta arrivando in ufficio portando con sé un sacco e attraversando la città piena zeppa di personaggi natalizi anche di tanti camei disney sembra che sia ispirata a un dipinto di car barks intitolato the season to be jolly che mostra zio paperone sempre in una cornice natalizia che porta sulle spalle un sacco pieno di soldi curiosità numero 2 e venire scrooge in questo film viene doppiato da alan yang è sempre nelle scene iniziali quando ebenezer sta parlando del suo vecchio socio marley il quale era morto da poco scrooge dice che nonostante lui gli avesse lasciato i soldi per una lapide l'aveva fatto seppellire in mare nel testamento mi aveva lasciato i soldi per una lapide io l'ho fatto seppellire in mare quando ala yang muore come jacob marley fu sepolto in mare curiosità numero 3 che riguarda tre personaggi presenti o assenti in questo cortometraggio che hanno o non hanno un ruolo però o marginale o molto molto differente da quello che hanno nel mondo disney per esempio minnie che interpreta la signora crachit la moglie di bob crachit detto polino nonostante sia presente nel film per un po di scene non recita neanche una battuta che sta cucinando un uccellino buon natale i dialoghi c'erano stati in fase di realizzazione del film ma poi le scene in cui la signora crachit parlava erano state tutte tagliate aggiungiamo anche che pluto è l'unico personaggio dei cosiddetti super six che non appare in questo film chiudiamo con la figura di paperina che in questo film non è la moglie di fred il nipote di scrooge interpretato da paperino nonostante nel romanzo si dica chiaramente che fredde sia sposato buon natale lei signorino fred paperina viene ingaggiata per un altro ruolo infatti deve fare la vecchia fidanzata di scrooge isabel è un adorabile isabel curiosità numero 4 l lp originale con le musiche del film nonostante il film sia uscito nel 1983 era stato registrato nel 1975 ben otto anni prima in questo lp però c'è qualcosa di molto diverso rispetto al film almeno nella copertina delle lp infatti il fantasma del natale passato non doveva essere interpretato dal grillo parlante sono il fantasma dei natali passati ma dal mago merlino della spada nella ruggia e il fantasma del natale futuro non doveva essere interpretato da pietro gamba di legno e tu chi sei forse lo spirito dei natali futuri pensi da grimilde trasformata in vecchia la matrigna di biancaneve del film biancaneve e sette nani curiosità numero 5 quando il gigante willy che rappresenta il fantasma del natale presente va a trovare ebenezer perché il fantasma del natale presente che sono io dovrebbe mangiare un piccolo avaro disgustoso come te gli fa trovare una stanza piena zeppa di cibarie squisitte che straborda le cornie ed è stato però il doppiatore willy ryan ad aggiungere la battuta che pronuncia il gigante sul pistacchio che non riesce a pronunciare proprio la parola pistacchio chiama pismacchio pistaccio pistaticcio eccetera eccetera per poi concludere yogurt e non dimenticare il gelato al cioccolato con il pismacchio con il pistaccio ma con ed era talmente divertente che poi è stata realizzata anche per il film a dimentico di dire che willy il gigante è un personaggio di topolino e il fagiolo magico bene siamo arrivati alla fine anche di queste cinque curiosità vi auguro ancora buon natale ringrazio ancora a tutti voi che siete fedelissimi e dei propri a voi che vanno i miei migliori auguri se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento se siete nuovi iscrivetevi al canale ricordo ancora che sono pronto a trattare le curiosità di un film che vi può interessare basta che me lo lasciate su commenti e basta che sia un bel film intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video grazie e a presto ciao